Eccoci qua! Quello che abbiamo fatto è arrivato a più di qualcuno. Lo spazio dove Dio abita. In ognuno di quei ragazzi c'è tanto di buono. C'è sempre, sempre qualcuno meglio di te. Perché c'ho quell'esitation che me frega, capito? E questa è... VITA! Arianna Ciampoli e Michele Lagginestra conducono il meglio di questa è vita. Mercoledì alle 21.40 sul TV 2000. Grazie a tutti!